La medaglia d'oro dell'Aquila torna a casa, che festa in Puglia! Lecce sfuma definitivamente Pizzini, oggi ultima amichevole a Vicenza. Taranto Saraniti arriva per rilanciarsi dopo una stagione altalenante. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva di Antenna Sud 85. L'apertura l'avete sentito dai titoli. Ieri sera è atterrato all'aeroporto della Salento l'aereo con a bordo il campione olimpico per il taekwondo Vito dell'Aquila. Mesagnese d'Occa ad attenderlo all'aeroporto Brindisino. C'erano amici, conoscenti, parenti. Un abbraccio virtuale e non solo per lui. Ascoltiamo. Dopo aver conquistato l'oro alle Olimpiadi Tokyo 2020, Vito dell'Aquila torna nella sua terra a una grande festa ad accoglierlo. I genitori, la maestro, il sindaco di Mesagne, ma tanti, tanti fan e tanti amici. Dopo l'attesa davanti allo schermo adesso si riabbraccia Vito. L'abbiamo già riabbracciato. Signora, è poco più o meno emozionata dell'altra volta. Più. Mi rendo conto di quello che sta succedendo. Stai elaborando questo successo? Sì. E cosa ti ha detto Carlo Molfetta appena vinto l'oro? Che mi amava. Anche la tua mamma ti ha mandato che ti amava. Sì, è molto emozionante questo momento. Vedo tutte le persone con cui sono cresciuto, la palestra, Ashley Mia e tutti i ragazzi. Si è andato sotto di qualche punto all'inizio dell'ultimo combattimento. Un po' tutti abbiamo tremato. In realtà c'è chi non ha tremato sapeva che avresti ribaltato come il tuo maestro. Sì, il maestro Nolano mi ha detto mi raccomando, fallo per il nonno. Mi ha motivato. E poi mi ha detto mi raccomando, cattivo ma non stupido. E quindi, non lo so, mi ha dato quella grinta per affrontare le fasi finali del match. Poi ho pensato, è un'occasione che non mi capiterà tante volte nella vita, quindi la devo sfruttare. L'emozione era tanta qualche giorno fa quando ci siamo visti in palestra, subito dopo l'oro di Vito. Oggi ancora di più perché lo riabbraccia, maestro Ballivo? Vabbè, oggi è proprio più bello. Non so poter andare là per motivi di Covid, però è stata una cosa bella che adesso è arrivato qua con la medaglia d'oro. Ha donato alla nostra città, alla nostra comunità, una gioia straordinaria. Vito è un grande sportivo ma è anche un grande uomo nonostante sia così giovane. Tra l'altro è la seconda medaglia d'oro che arriva nella nostra città dopo quella del 2012 di Londra di Carlo Molfetta. Per cui una tradizione consolidata e il merito va anche al grande maestro Ballivo che sicuramente avete già intervistato. Doverosa pagina d'apertura dedicata al campione olimpico Vito dell'Aquila per il taekwondo. Adesso parliamo di calcio, parliamo della Lecce. Finisce la telenovela Pizzini. Il calciatore rimane in Argentina per l'attacco. Il sogno per i giallorossi rimane garritano. Finisce ufficialmente il tormentone Francisco Pizzini. Il 27enne argentino contattato a Lecce all'inizio del mese di luglio senza aggiungere un accordo per il trasferimento. Si congeda dall'indipendiente dove ha vissuto un periodo da separato in casa. Nel corso della giornata di ieri il difenza yukistica ha acquistato il 50% del calciatore. In Argentina sono ancora concesse con proprietà per 200 mila dollari. Pizzini torna gialloverde dove è stimato anche per il ruolo importante recitato nella vittoria della Coppa Sudamericana 2020. Con 40 presenze, 12 assist e un gol firmando un contratto che lo lega al club sudamericano fino al 2023. Per il ruolo di esterno offensivo il sogno però rimane garritano in uscita dal Chievo Verona. Adesso con il ritorno di Stefano Trinchera il Lecce ha una carta in più da giocarsi. Visto che il nuovo DS dei Salentini ha già avuto modo di collaborare con l'esterno del Chievo. Che nel corso della sua esperienza con la maglia di Cosenza è stato in grado di esaltarsi. Una possibilità in più per portare alla corte di Marco Baroni un giocatore di grande spessore per il campionato di Serie B. Lavoro e tanti sorrisi in casa Virtus Francavilla. Procede spedita la marcia dei Biancazzurri verso i primi impegni ufficiali. E sui social tanti scatti che arrivano dal ritiro anche simpatici. Lavoro atletico con il pallone e recupero tra le fresche acque abruzzesi per i calciatori della Virtus Francavilla. E' andato in archivio così il primo giorno di ritiro a Palena. La squadra prosegue il proprio lavoro precampionato agli ordini di Roberto Taurino. Carichi pesanti, tanti sforzi. E' per quei calciatori che potrebbero sembrare in uscita tanta voglia di mettersi in mostra e convincere il nuovo allenatore a puntare su di loro. Ma non solo lavoro e fatiche. Anche tanti sorrisi partiti ieri mattina con il pullman dal Giovanni Paolo II. E' arrivato in provincia di Chieti. Dagli abbracci fra Caporale e Perez a un ritrovato puntoriere che ha finalmente messo alle spalle l'infortunio al ginocchio. E' proprio prezioso, Popillo di Taurino, che si è subito immerso nella realtà bianca-azzurra e ambientato alla grande del gruppo. Ma rubare la scena anche sui social è quel chicco patierno desideroso di tornare in campo e fare ciò che più riesce meglio, ovvero gonfiare la rete. E poi, negli scatti del fotografo Miglietta, è possibile vederlo sorridere e scherzare con lo staff tecnico. Insomma, al momento c'è tutto per considerare fantastica l'atmosfera in casa Virtus Francavilla. Manca qualcosina, invece, in termini di rinforzi dal mercato. I sogni per la difesa restano Idda e Cosenza, per i quali la società non ha perso le speranze. In avanti arriverà un sostituto di Vasquez, soprattutto se a Patierno non verrà ridotta la squalifica possibile. Infine, anche un ulteriore innesso a centrocampo. Il Taranto e Saraniti, finalmente insieme. Può essere il bomber per la consacrazione del progetto Rosso Blu. Intanto, in queste ore, si dovrebbe tenere, nel ritiro di San Giovanni Rotondo, la prima sgambata dei Rosso Blu. Ma ascoltiamo il servizio di Giuseppe Andriani. Un bomber da 30 in attesa di lode. Tanti sono i gol che Andrea Saraniti ha realizzato negli ultimi cinque anni in Serie C, da quando ci tornò nel 2016-17, dopo aver vinto il campionato con la Vibonese. Andrea, da Palermo, ha dovuto conquistarsene sul campo le categorie. Partito dalla Lega Pro 2, poi la D, la Vibonese, è un play-out per restarci. Poi l'esplosione nella Virtus Franca Villa, nove gol. Tanto da andare a Lecce a gennaio, fare cinque reti in 13 partite e trascinare di forza i giallorossi in Serie B. In B gioca poco, solo tre volte. Scende di nuovo, va a Vicenza e vince il campionato nell'anno del Covid, risultando anche contagiato tra i primi calciatori in assoluto in Italia. A Palermo, nell'ultima stagione ha giocato meno, era a casa sua. Forse ha patito anche questo, ragazzo dal cuore d'oro, bomber generoso anche e soprattutto in campo. Andrea Saraniti è il terminale offensivo di cui il Taranto aveva un bisogno matto, quello capace di far gol al di là delle categorie. Il matrimonio è di quelli importanti, veri, a 32 anni compiuti da qualche giorno. Che sia per la vita. Ritorno quindi di Saraniti per la terza volta in Puglia, dopo appunto Lecce e Virtus Francavilla. Adesso lo vedremo con la maglia rosso-blu. Andiamo avanti e parliamo della Brindisi. Brindisi che ovviamente resta in stand-by anche nella scostruzione della squadra a causa dell'incertezza sulla categoria da disputare. La prossima stagione sarà eccellenza o serie D. Lo sapremo ufficialmente solo tra qualche giorno, ma andiamo ad ascoltare i particolari nel servizio. Tra l'altro ieri si è tenuto anche un raduno presso precampo della Fanuzzi agli ordini di Mauro Chianese. Sentiamo. Si è svolto giovedì pomeriggio 29 luglio un raduno di un gruppo di giocatori vecchi e nuovi volti sul precampo del Franco Fanuzzi. Un'occasione per il neotecnico biancazzurro Mauro Chianese per visionare alcuni giovani e vedere all'opera anche volti noti. Un periodo non facile quello che attraversa il Brindisi in attesa di avere notizie ufficiali anche da quanto accadrà alle squadre di serie D. Per ora solo indiscrezioni dai problemi molto seri del Livorno all'iscrizione in sovrannumero del Gozzano. Ma solo il 5 agosto prossimo la Covisod relazionerà il consiglio direttivo della LND. Solo allora si avranno ufficialità e idee chiare. Per capire quali sono le squadre iscritte regolarmente al campionato di quarta serie quali invece e quante avranno presentato ricorso. Ed ecco che il Brindisi decide di cambiare le data del ritiro. I biancazzurri saranno a Campitello Matese dal 9 al 19 agosto prossimo. Intanto sul fronte delle uscite Pizzolla e la Cirignola sono con le valigie in mano in attesa di svincolo ma lo staff tecnico continua a lavorare come conferma l'allenatore Mauro Chianese. Dire che siamo incontrati delle difficoltà no perché comunque la piazza di Brindisi è ammita da diversi calciatori e questo è un fatto positivo per noi. Però è anche vero che giustamente stiamo attendendo per poter ufficializzare quelli che sono i calciatori che stanno aspettando prima di poter venire a Brindisi. Fare questi raduni ci serve anche per vedere qualche giovane che magari era in rossa con noi o che magari si è visto un po' in giro per il centro-sud e quindi ci permette anche di valore. Anche Calemme che la scorsa stagione ha disputato appunto il campionato in biancazzurro non ha cambiato i colori perché è rimasto in biancazzurro ma è approdato alla fasano del presidente D'Amico. Era l'ultima notizia. Noi ci rivediamo questa sera intorno alle 21 in diretta su Antenna Sud per il calciomercato il punto sulle trattative di tutte le squadre pugliesi ma anche curiosità dai ritiri. Quindi questa sera alle 21 su Antenna Sud. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento.